Ma dopo il dispiacere, l'arrabbiatura, tante sensazioni negative e di sconforto, adesso abbiamo capito che comunque sono questi sei punti. Bisogna rimboccarsi le maniche, l'abbiamo sempre fatto in questi anni, lo faremo ancora di più. Bisognerà lottare dalla prima partita, cercare di fare subito tre punti importanti. La cosa che comunque questo gruppo sa è che due anni fa ha vinto un campionato perché si è fatto un gran mazzo, un gran lavoro. Stavo a venire a vedere gli allenamenti con Conte, che non ci ha regalato niente nessuno, non abbiamo comprato e venduto partite. L'unica colpa che si può fare a questo gruppo è non aver riconosciuto una serpe dentro lo spogliatoio che nella sua vita aveva fatto tanti danni con partite comprate e vendute. Quello è un nostro peccato, non averlo capito. Però adesso siamo consapevoli che abbiamo questi sei punti, ci sono dei ragazzi che erano con noi, che verranno squalificati ma che faranno sempre parte del nostro gruppo perché sono persone serie, persone vere con le quali abbiamo condiviso tante gioie e quindi lotteremo al loro fianco. Io spero che poi nei vari gradi di giudizio ci sia la possibilità di difendersi in maniera adeguata. E niente, si riparte, ripeto, consapevoli che sarà un po' più dura ma abbiamo tanta voglia, tanta cattiveria dentro da trasformarla poi in campo in qualcosa di positivo.